Se sei un lavoratore frontaliere, ecco perché cambiavalute.ch è la miglior soluzione per cambiare il tuo stipendio da franchi svizzeri in euro. Miglior tasso di cambio in Svizzera, ottieni più euro per i tuoi franchi. Con cambiavalute.ch puoi ottenere fino a 70 euro in più al mese su un salario medio. Il tasso di cambio è trasparente e riceverai esattamente l'importo che vedi nel calcolatore in home page. Fai tutto online senza doverti recare in banca o all'ufficio cambio. Non devi aprire un nuovo conto bancario né sottoscrivere nuovi abbonamenti o carte prepagate. Puoi usare cambiavalute.ch mantenendo il tuo conto franchi in Svizzera e il tuo conto euro in Italia. Sicurezza, il servizio è erogato da una società svizzera autorizzata con sede a chiasso. In caso di necessità puoi contattarci in ogni momento. Il servizio clienti è a tua disposizione. Se ci presenti un tuo amico frontaliere c'è un premio per entrambi.